Esiste un modo di dire che almeno in Campania è legge, Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi. Non c'è nessuno che non rispetti alla lettera questo detto, soprattutto durante le festività natalizie, anche perché l'obiettivo principale poi è stare a tavola insieme. Ma cosa si mancia? Qual è la tradizione in Campania e nell'Alto Casertano? La nostra Benedetta Ventitti lo ha chiesto a Roberto D'Agostino del notissimo ristorante in Ruscello, nel cuore verde di San Potito, San Nittico. Oggi faremo un'intervista un tantino sopra le righe, perché abbiamo parlato di cronaca, abbiamo parlato di sport, di attualità, ma oggi tratteremo un argomento davvero, davvero importante, perché parleremo di cibo, ovviamente. Sono infatti in compagnia di Alberto, il proprietario del ristorante Il Ruscello. Bene Alberto, siamo quasi a Natale, quindi la domanda che sorge spontanea è e quale piedanza non può assolutamente mancare sul tavolo a Natale? Sicuramente la minestrina che facciamo di Natale con scarola, gallina, queste cose qua. Poi l'agnello, l'agnello, che è il nuovo agnello del Madese, e della lasagnetta. Intanto ricordiamo i nostri telespettatori anche dove si trova il ristorante. Il Ruscello si trova a San Bodito, San Nitico, provincia di Caserta. Ma se nel ristorante sono tanti i piatti, in pizzeria che cosa si fa? Noi siamo andati da Pasqualino Rossi, nella notissima pizzeria Elite di Alvignano, dove anche tanti VIP si ritrovano per sapere qual è la specialità di Natale. Ed ecco che cosa ci ha detto la forno caldo, è il caso di dire. Allora, in pizzeria la pizza di Natale sarà una fatta con il baccalà, pomodoro, pomodorini gialli e rossi, del peperoncino e la passiamo nel forno in cottura alla semplice pizza. In alternativa facciamo la pizza nel ruoto, un impasto sotto, mettiamo scarola, capperi, acciugoli venere, un altro impasto sopra e la passiamo nel forno e viene cotta nel ruoto. È questa pizza che si mangia a Natale o la vigilia di Natale come antipasto. Diciamo che la pizza nel ruoto è una vostra specialità. La pizza nel ruoto è una nostra specialità, è una pizza che è sempre esistita. Noi l'abbiamo rivalutata e la proponiamo a tutti i nostri clienti. È diventato il nostro must come pizza e ci teniamo tanto a questa tipologia di pizza.